Harry Potter, il ragazzo che è sopravvissuto. Daniel Radcliffe, diventato una star con il ruolo del maghetto nella saga cinematografica di Harry Potter, tornerà in primavera a recitare a Broadway con il capolavoro comico di Martin McDonagh, The Cripple of Inishman, nel quale interpreta il ruolo del protagonista. La commedia racconta la storia di Cripple Billy, orfano fin dalla nascita, che vive sulla piccola isola irlandese di Aran e sogna Hollywood. Ma per realizzare la sua aspirazione dovrà convincere una piccola comunità di isolani a credere in lui.